Nella casa del grande fratello Witt, Tommaso Giorgi per passare il tempo propone ai compagni di effettuare un gioco con il quale uno di loro avrà la possibilità di dire chi non dovrà arrivare in finale, chi non meriterà di arrivarti. Diana esprime la sua opinione dicendo che secondo lei i primi a dover lasciare la casa saranno Pier Paolo e Giulia Salemi. Affermo questo perché secondo lei Pier Paolo non è stato in grado di farlo conoscere dagli altri venturini e non è particolare anche con lei, non ha avuto nessun punto di incontro perché si è dedicato esclusivamente alle storie con prima con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi. Pier Paolo risponde a questo attacco dicendo che lei è stato invidiosa e continua a usare Cattiveria e ne lo vedo quando sono pronti anche con i nostri figli di Giulia. D'altronde è anche vero che Pier Paolo fin dall'inizio ha comunque partecipato anche alla vita sociale e con gli altri punti lì. Infatti aveva un'ottima amicizia con Enoch, con Andrea Zelletta che è il dottore rappresente e erano entrambi, anzi tutti e tre, molto legati anche alla montessa Patrizia de Blanco.